I consiglieri regionali del PD Paolucci e Blasioli fanno approvare la risoluzione per l'esenzione IRAP estesa al terzo settore per evitare che le spese e gli oneri a carico di questi enti siano più imponenti delle loro attività a livello contabile, una misura da concretizzare già dal 2024, precisa Silvio Paolucci. Abbiamo portato avanti questa risoluzione perché sta per arrivare il bilancio di previsione per l'annualità 2024 e intendiamo dare una misura concreta per favorire questi enti che si occupano della parte più fragile della nostra comunità e della nostra società di temi molto sensibili e soprattutto non hanno alcuna finalità di lucro. Ci rivolgiamo a loro e ci rivolgiamo alla regione perché intenda sostenere concretamente il terzo settore. La risoluzione sostanzialmente è stata avallata da tutto il Consiglio regionale durante i lavori della Commissione. Abbiamo fiducia che il gruppo del PD possa portare avanti positivamente con un risultato concreto questa iniziativa che è di sostegno al terzo settore.